Amici di Custione della Memoria, eccoci, un piccolo spot dai territori di Kardedu. Io sono praticamente col drone, sto sorvolando il Lulaghe Mushiu. In territorio di Kardedu c'è questo bellissimo monotorre, nel frattempo il drone si avvicina piano piano e vi faccio vedere che purtroppo la torre è completamente svettata, nel senso che, ecco qua, da qui si vede molto bene che praticamente è implodo su se stesso. Ma adesso io faccio avvicinare il drone, lo prendo, inizio le immagini dal basso velocemente per farvi vedere quanto è bello e la caratteristica cromatica di questo straordinario Lulaghe monotorre in territorio di Kardedu. Eccoci, eccoci con le immagini dal basso, velocissime, è così, non vi annoiamo. La caratteristica di questo bellissimo monotorre è il colore, rosa strepitoso, anzi io direi color salmone, perché se venite qua vi accorgerete che non è proprio rosa rosa, ma proprio assomiglia al colore salmone. Io sto inquadrando adesso la sommità della vetta, come ho detto delle immagini dall'alto, purtroppo è completamente imploso su se stesso, ma è facilissimo capirlo una volta che entriamo, a parte il fatto che vorrei sottolineare, guardate un po' l'architrave, si parla sempre di architravi, questo non è secondo a nessuno, è enorme, è enorme, ma stavo dicendo che praticamente se entriamo all'interno della camera centrale, che poi non c'è più, perché come potete vedere è completamente imploso, sulla sinistra doveva esserci una scala, perché anche qui vedete c'è della luce, quindi sicuramente la scala era a sinistra, manca la nicchia a destra, o perlomeno non c'è, non la vedo più, eccolo qua, purtroppo tutta la zona di crolli una volta terminato l'andito, ad ogni modo abbiamo reso giustizia anche a questo bellissimo monotorre in territorio di Cardedu, guardate un po', se adesso io entro nel corridoio, giro le immagini e vi faccio vedere le inquadrature dall'interno, eccole qua, ecco qua, dall'interno verso l'esterno, un caro saluto a tutti da Cardedu, viva il nulare Mushiu e anche questo è nostro e anche questo è vostro, ciao a tutti!